Ferdinando De Maria lo potremmo definire il primo big match della stagione, giocate di nuovo alla Ricucci a Civitavecchia contro il Visnova, una vera corazzata, possiamo definirla così? Sicuramente è una squadra che è molto meglio attrezzata della nostra, soprattutto nel pacchetto esterno dove ha dei giocatori che hanno avuto presenza in Serie B, l'anno scorso hanno finito il campionato in Serie B, quindi è una squadra ben attrezzata sul pacchetto esterno. Il pacchetto di lunghi è un pochettino più di basso livello, però comunque è una squadra che si può dire assieme a Viterbo è la corazzata del campionato. Voi avete recuperato Pebole che ha finalmente risolto la questione del tesseramento, un valore aggiunto importantissimo per la vostra squadra? Pebole è un giocatore fondamentale comunque per la nostra squadra, in quanto uno è quasi il finalizzatore di tutte le nostre situazioni di gioco, e poi è un giocatore molto molto intelligente che contro una squadra del genere ci fa veramente veramente comodo, infatti ci aspettiamo, non voglio mettergli pressione, però sicuramente sarà caricatissimo e pronto per affrontare una bella partita di livello soprattutto. Ferdinando, avete appunto incontrato una squadra molto forte, l'avete preparata in modo particolare questa partita, come si può battere questa Visnova? Dovremmo fare tanto lavoro difensivo, Visnova ha un ottimo playbook, ottime situazioni di gioco, e noi abbiamo fatto di tutto in settimana per poterle analizzare al meglio, per poterle affrontare difensivamente al meglio. Un'ultima battuta, venite dalla vittoria contro la Lazio, anche se un po' sofferta, anche in relazione all'avversario che avete incontrato, c'è da fare un passettino in avanti dal punto di vista del gioco, in questo Pebole forse può essere di grande aiuto. Guarda, il fatto che siamo riusciti a mettere finalmente dentro Met è una cosa che ci ha dato molta fiducia, infatti ne parlavamo proprio ieri con il coach Cecchini, e diciamo che appunto fino a una settimana fa, settimana scorsa, la stagione, cioè i ragazzi sembravano quasi spenti dopo la sconfitta contro l'Alfa Omega, poi c'è stata la vittoria contro la Lazio e questa settimana sembra di aver avuto un gruppo che può migliorare, quello è ovvio, però che ci dà tanto e dà il 100% in campo in ogni istante.